Benvenuti in questo nuovo video di GTA V e quest'oggi gara face to face ma con un'idea particolare dietro che renderà tutto un po più piccantino allora quest'oggi non vince chi arriva primo ma vince la persona che fa più kill tra l'altro però chi arriva primo fa più 15 kill che arriva secondo fa più 10 kill che arriva terzo fa più 5 così nessuno si ferma a campanella troppo sui quanto vuoi eccetera eccetera quindi è letteralmente una gara di kill in pace to pace con insulti a tutti quanti e come si conta le proprie single editor prova a contare signori mi sono già spaventato aiuto ragazzi già fatto sbandare io non ti ho girato solo non è vero fate superare sta parte ok eccomi il cacchio più stavo guidando prima di continuare con il video facciamo un bello spuntino assieme ovviamente con il cioccolato del nostro uovo di pasqua il nostro nuovo uovo di pasqua fatto con dolci preziosi cioccolate al latte buonissimo me lo mangio adesso e continua a parlare mentre lo potete trovare in tutti i migliori supermercati muovetevi perché pasqua si sta avvicinando e poi finiscono ed è veramente bellissimo ho fatto appunto con dolci preziosi cioccolato al latte super mega buono non riesco a parlare mentre mangio andate a comprarlo mi raccomando eh no sono andato è andato è andato è andato è andato ok vabbè sì sì mi hai fatto bene no ma sono proprio andato pesante è scemo e scusa non è mica gara di chino se ho capito ma come mi ammazzi in mezzo qua dire non è morta no tu non sei morto dicevo che è difficile perché parte della mappa comunque è protetta dalle cadute quindi tra devi gestire bene sto frenando apposta ah 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 ho giusto step davvero chi era chi era che è caduto doppia di pere per i due due ragazzi perdo il contro il conto in due secondi c'è un po di a cani in mezzo perché mi sembra che si è presenti vero no sono da chi per tempo no 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 è una mia kill mannaggia a te ma ci non andiamo sui muri almeno mannaggia ma cosa sto scemo per e ammazzano prima che fa domani non ce la faccio ce l'ho la mano di questa roba vabbè ma non riesco a vedere marco ti riesco da l'imprano a me ne vuole anche per vigo raga perché sta roba qui ha fatto di carta che assicuro ma che sta roba è però sei cosa potrebbe essere bella anche la rampa la rampa bellissimo ma c'è l'adesso marco lo sai non dico niente che fermo perché al veicolo giusto scivolare via no 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 ora che lo prendo lo prendo il volo mi dispiace staff non ce l'hai fatta mamma ma che mia c'è mia è mia è mia è mia no io ho intanto te campione mi ha buttato giù no l'ho intanto io come facciamo tutti con la rampa adesso me lo spiega no no che è stato io mi abbi a bianchiato brutto maledetto abbia una au ok è la nostra file stiamo con ora sì ragazzi dopo possiamo smetterla che sta scappando io no no predetilo predetilo oh vigliaco io raga ero a tre comunque sono ucciso da solo due volte vale vabbè effettivamente vale cadere da soli ragazzi mannaggia non sono riuscita a prenderlo mentre cadeva problemi questi no no dai ma non ci credo per chi ragazzi ciao poveri no no ragazzi siamo a piedi adesso c'è il parkour da fare ma tu la conosci ma preparatevi se ci buttiamo giù qua è finito ragazzi ma come faccio di qua dobbiamo far tutto il giro come si picchia di qua di qua di qua io me ne vado me ne vado dove è marci io non ho capito qua 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 allora io soffro divertiti neanche nel gioco quindi appena vedo quella roba lì mi viene ragionata l3 quando fai quei cosi lì perché l3 perché ti metti così piano piano eh ma ne sa un sacco ragazzi grande marci è proprio un campione mamma mia ragazzi questo senso l3 brutto no ragazzi però stef non è caduto adesso c'è la bici tipo si ho proprio la bici non finisce più hai quasi finito e ma dopo ci investi no avere marche di fronte mi mette a crappi ma io ho provato a fare una cosa incredibile ho fallito quindi ho perso un sacco di tempo possiamo fare una cosa stef che non ci uccidiamo a piedi per favore a piedi no certo quando siete in bici no ma non ci investi in bici per favore no 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 tranquillo io perché ho finito per prima io quitto se mi prendi guarda mi devono censurare per tre minuti di fila no no io vengo lì io vengo lì io vengo lì io sapete io vengo lì io vengo lì io punto marche no no allora va bene no sono caduta no fa schifo fa schifo come si muove come fai è facilissimo finito come fai troppo è troppo lunga questa parte come faccio la biazza mai marci ti si è baggato marci non avevi la seconda no ma aspetta non riprendere uno staff non ci credo la vero non è vero che ho preso non è vero non dovrei far tutto dimmelo contiamo una kill in più per step ragazzi devo rifar tutto lo sapete perché marci non lo so mi ha bagato il cielo io vedo il rosso grande qua ma non ma chiedevo rifà tutto io ti avrei risparmiato marci a non farlo dimmi che me l'ha preso per sbaglio il presentimento che ha vinto semplicemente finendo questo per questa che ragazzi face to face con una parte a p non toglie il fatto che possiamo ancora divertirsi è volato sopra no ragazzi no è è matto non fa queste robe non prendermi c'è il ragazzo ha vinto però mi faccia richieste gli altri in questi prego basta sono io questo ti prego veramente ok è l'ultima parte tutta dritta è tutto questo non era l'ultimo ma comunque la tecnica di marci non funziona fatto tutto correndo come un pazzo non è vero io sto facendo tutto con la tecnica di marci tutto ma io sta di chi è basso ti prego scusami scusami adesso sto dicando posso dirlo noooo ahia no mi censuri signore editor ma lo dico lo sai segure se quando dovete censurare anche questa basta no no c'ero due ore il punto più lontano che avevo raggiunto te ne rendi conto Sono proprio un gabbiano in questo momento Allora io ve lo dico Se non prendo la bici Io quitto il video Non gliela da Quindi ho vinto Steph Cambiamo mappa raga A priori ho vinto io Non me frega nulla Di copertura Vi ricordate quando abbiamo fatto questi veicoli Anche se Steph è l'unico che non si è messo il veicolo Perché avevo vinto Non volevo vincere di nuovo Raga sono finito su Marte Sono finito su Marte Sto prendendo il checkpoint lo stesso Quindi come siamo a kill Zero No non si resetta No ho vinto Allora io ho 15 Io ne avevo tre Si è buggata la mappa quindi si contano le kick Bene avrei vinto No 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 Secondo me ci avrebbe sfondato Sì sì Il sorbasso E prendiamolo Ma è arrivato il phantom No come col phantom Si ho capito Perché non ci tiene i colori Quindi non si capisce Prendetelo raga Ma perché Marco perché Non avete visto check point Ma perché mi hai lanciato giù No 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 loro due Non facciamo più lo sai vero Aspetta che ero un attimo a buttare giù questo qua No No mi ha colpito dei lì che non ci posso credere Quando quando cambiamo il phantom vedrete Si mati Quattro kill per bene Quattro kill per fare Quattro kill Un altro che ho fatto volare Chi è è morto Perché sono vivo Sono vivo Morto Sono vivo Scappa È il momento Davvero Ma proprio mal Ci ho superato È stato molto bravo È stato bravo Sono passato ciao marci ci vediamo il prossimo annetto la pioggia impossibile ed questo che era armato ma poi l'hai sentita capiane no no l'ho sentita l'ho sentita solo per prendere i miei family friendly lo prendo io marci non l'hai toccata nemmeno con un pelo no no io ho preso l'elica lo sposto vada 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 grazie grazie mi ha salvato la vita eccola la kill no no mi ha ucciso l'elica se ti spingo sull'elica per due ore e mezza ti blocco lì mi ha scierato allora ti si vede quella kill io vedo questa e insomma devo schivare perché io devo prendere fiera a volante no è parata raga sono due ore con questo veicolo guarda come mi vendico appena lo prendete voi ragazzi non andate più avanti neanche se piangete aiuto no ragazzi non ci posso davvero io no chi è che c'è il pullman no gestiamola raga gestiamola bravi no dove è stef io non mi muovo più questo veicolo dove è stef io dietro di noi resetto tutto il tempo guarda dietro di noi infatti adesso ci giriamo resetto resetto e sei morto eh ma l'ha detto eh l'ha detto quello schifoso ti aspetto ragazzi c'è il sole adesso eh io non lo vedo mi ha preso troppo poverino ah monza chi è lì chi è l'autobus aia l'autobus paura io adesso ti stacco tutto il pc non ero io chi è questo è marchio pensavo fosse marci beh hai fatto uno scivolone gigante hai detto l'autobus e mi hai colpito quindi sei tu è marchio e perché l'hai detto perché ho visto la scena non la puoi vedere non c'è nessun altro per ero dietro di voi marchetti levi su meno ma perché ce l'avete con una raga no ho preso una pala per fare le kill è davvero lo schifo dove ti porto a vedere dovevo andare non cado comunque ha finito di piove raga quindi stessa cosa cantare perdente no rimango qui non cado guarda ha redetto e tu non ci puoi fare nulla ti l'hai ucciso che schifo che fai che schifo che fai che è morto di nuovo no guarda io rimango qua fino a fine partita guarda ho dei veicoli orribili dimmi capire non so se è notato ma c'è il sole e quindi e quindi e quindi non piove non piove più non ho sopporto più il phantom è davvero noioso questo ragazzo sono noioso gli piace proprio trajardare perè non mi prenderei mai questo veicolo perè guarda sto facendo dei gestacci in auto tanto non ti vedi neanche no basta è che ha preso il volo ragazzi come un brabbiano possiamo fermarci sì basta ma per favore stiamo ripetendo tutti i veicoli esatto sì 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 è fatto caso che la parola fermarci all'interno amarci ma quindi non contiamo le kill della vittoria ha vinto ha vinto ha vinto ha vinto ciao 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 Sì